Con sede in Germania e quotata in borsa a Francoforte, Phoenix Solar è fra i primi operatori europei nel settore fotovoltaico. L'affiliata italiana, vantando l'esperienza e il successo e la garanzia del gruppo Phoenix, è il perfetto partner per ogni tipo di realizzazione e si pone come obiettivo di diventare azienda leader nel panorama fotovoltaico italiano.